ciao a tutti ragazzi abbiamo venuto in questo nuovissimo video oggi siamo qui che ci andiamo ad aprire questo nuovo pacco di chiedra sorpresa collezioni avatar sperando di trovare un altro che mi manca mi manca nei tiri e altri due personaggi sott'acqua e rimane subacchi andiamo ad aprire la faccia ecco qua il primo prendiamo il secondo ecco qua il secondo anche e adesso andiamo ad aprire il terzo con la sorpresa di avatar ecco qua il terzo comunque ragazzi queste sorprese qui che trovo non le aprirò non le monterò perché lei metterò in vendita penso il mio dei vi farò vedere solo chi trovo e poi li metterò così come vi faccio vedere anche il codice e qui abbiamo trovato questa macchinina il codice per la macchina è questo e quindi questa è la prima sorpresa generica andiamo a chiudere il tutto andiamo a vedere la seconda sorpresa generica e abbiamo trovato qui c'è il codice della seconda sorpresa generica abbiamo trovato questo qui questo personaggio e adesso ragazzi andiamo ad aprire la sorpresa di avatar andiamo ad aprire la sorpresa di avatar e vediamo che abbiamo si tacchio nei tiri ragazzi l'abbiamo trovata finalmente e così abbiamo sia jake che nei tiri ragazzi grande fantastico ragazzi e così almeno i due protagonisti principali li abbiamo trovati e quindi e quindi ed ecco qua ragazzi favolosa bellissima ecco qua nei tiri almeno abbiamo due protagonisti principali della saga di avatar nei tiri e jake adesso vado a prendere anche il g che ragazzi così lo farò vedere ecco qua jake i miei tiri e niente ragazzi il video commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao